Buongiorno a tutti, domani è il giorno di Inter a Tredico Madrid, gara valida per l'andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2023-2024. Sono qui con noi Marcus Turam e il nostro allenatore Simon Inzaghi a disposizione per le vostre domande. Cominciamo subito con tutte le domande per Turam e poi proseguiremo con quelle per l'allenatore. Cominciamo con Binsport. Buongiorno Marcos, lei ha detto che dormi tanto, quasi sempre, ma anche prima di queste partite, partite così importanti per l'Inter? Sì, sì, anche prima del campionato, prima delle partite. Sarà una bellissima partita domani e ci sta di riporre la sì prima della partita. Rai Sport? Vai il microfono? Qui, prego. Non va il suo? Non funziona? No. Più vicino. Siete in una condizione eccezionale, riconosciuto da tutti, una squadra che gioca come poche in Europa. Ti chiedo se avete questa consapevolezza e se al contempo sapete che forse uno tra gli avversari più ostici da affrontare proprio questo Atletico Madrid, che cosa richiederà questa partita di diverso? No, noi ci contribuiamo su di noi. Pensiamo che dobbiamo essere molto seri, lavorare come abbiamo fatto dall'inizio della stagione, essere concentrati dal primo minuto e giocare una grande partita in casa nostra. Sport Italia. Ciao Marcus, ti troverai di fronte a un tuo compagno nazionale, Antoine Griezmann, che è forse uno dei giocatori più intelligenti al mondo. Tranne gli alieni, Messi e Mbappé, forse il migliore all'ultimo mondiale. Secondo te la sua posizione, molto intelligente, la sua maniera di muoversi in campo, in che maniera vi può creare problemi domani? Sì, conosciamo tutti Antoine, sappiamo che è un giocatore incredibile, ma penso che il problema Antoine Griezmann si risolve da squadra, 11 in campo, dai attaccanti ai difensori, e vedremo cosa fa domani. Grazie a te dello Sport, prego. Ciao Marcus, sono qua dietro. Volevo farti una domanda, magari non per forza legata alla partita, colpisce, oltre al tuo rendimento in campo, anche il tuo atteggiamento, sempre pieno di energia, positivo, hai detto che dobbiamo essere molto seri, ma sei anche uno che scherza tanto, lo sgambetto a Pavard, le capriole come un panda con Barella. Volevo capire, è una cosa che facevi già da prima anche al Borussia Gladbach, o hai veramente trovato un ambiente particolare qua, al di là dei risultati? No, non sono diventato pazzo in sei mesi. Stavo così. No, ma sto molto bene qua con i compagni, con il gruppo, amiamo giocare insieme, siamo veramente amici anche fuori dal campo, è bellissimo essere in una squadra così. Corriero Sport. Sì, ciao Marco, sono qua. Volevo chiederti se tu hai la sensazione che questa stagione possa essere una svolta nella tua carriera, sei salito di livello come prestazioni ma anche come tipologia di giocatore. Sì, sì, ho imparato molto da quando sono arrivato all'Inter e continuo anche a imparare partita dopo partita. È una stagione che per il momento sta andando bene e speriamo che continua così. Tutto Sport. Sì, ciao. Volevo chiederti come nasce questo feeling con Lautaro e in cosa ti ha migliorato allenarti insieme a lui, se ti ha migliorato in qualcosa. Lautaro è il migliore attaccante del mondo, se no il migliore attaccante. Giocare al suo lato è molto semplice, ci adappiamo e conosciamo le caratteristiche di ogni due e proviamo a lavorare insieme per aiutare la squadra. Corriero da Sera. Ciao Marcus, volevo chiederti che partita ti aspetti domani perché c'è un ritorno da fare poi lì a Madrid, 180 minuti se bastano, molto complicati. Se pensi che l'Inter cercherà di vincerla domani? Domani entreremo sul campo come ogni partita dall'inizio della stagione per vincerla e vedremo dopo la partita a Madrid, ma il più importante è la partita domani. Radio Bio Bio del Cile. Sì. Hola Marcus, ciao. Il mister ha detto che c'è una competizione sana tra i giocatori e soprattutto davanti al reparto offensivo. Adesso stiamo facendo un lavoro, un servizio su Sanchez, quindi cosa pensi come giocate e vi ritrovate tutti insieme? È un onore perché sappiamo la carriera che ha avuto, le squadre in cui ha giocato, è un grande campione come lo dice spesso e giocare con lui all'allenamento mi impara anche tanto. FC Ndre 1908. Sono qui. Buongiorno Marcus. Come gruppo state dimostrando una grande intesa in campo. Ti chiedo come hai visto e come si sta integrando l'ultimo arrivato, Buchanan. Grazie. CJ si sta integrando molto bene come tutti i compagni che sono arrivati nella squadra. È un giocatore molto veloce che può saltare l'uomo e siamo molto contenti di averlo con noi. La sesta. Quale pensi sia la più grande forza ma anche la più grande debolezza che potrebbe avere l'atletico? Come la conosciamo, difende molto bene ma anche palleggia molto bene con attaccanti molto forti, con Memphis come Morata o Griezmann. Vuol dire che dobbiamo stare attenti anche per la ripartenza. Stam Parmela. Thank you. Marcus' question will be in English. I hope there is no interpretation related issue. The question is about Mkhitaryan and connection with you because during the last couple of weeks you are getting more and more passes from Mkhitaryan. stai ricevendo sempre più assist e passaggi da parte sui. Quindi quanto è importante e quanto sarà importante domani nella partita? Mkhitaryan è un giocatore incredibile che gioca molto bene dall'inizio della stagione e proviamo a cercarci molto sul campo. Calciomercato.it Ciao Marcus, ti chiedo una qualità di Mr. Enzaghi e qual è l'aspetto del tuo gioco che devi migliorare ancora. Grazie. No, Mr. Enzaghi è qualcuno di molto franco che ci dice le cose quando ha bisogno di dirle. Non aspetta tre giorni, quando ha qualcosa da dire lo dice. Penso che questa è una buona cosa per imparare. Devo migliorare? Penso sinceramente che devo migliorare dappertutto. Senza la palla, con la palla, con l'attacco della porta. Mi fa piacere perché so che c'è ancora tanto da fare. Grazie a Marcus Turan. Proseguiamo con le domande per Simone Enzaghi. Partiamo con la domanda di Binsport. Binsport. Grazie. Sì, ciao mister. Ciao, buongiorno. Io vorrei cominciare con una domanda su Simeone. Avete vinto insieme lo Scudetto. Che compagno di squadra era da giocatore e dopo che al Natore è diventato, secondo lei? Ma chiaramente domani sarà un piacere ritrovare Diego d'avversario. È stato un grandissimo compagno di squadra perché abbiamo vinto a Roma con la Lazio. Ma poi lui è tornato in Spagna all'Atletico a finire la carriera da giocatore. Ma poi siamo sempre rimasti in contatto. Negli anni non ci siamo mai persi di vista. Un personaggio, un grande compagno di squadra che si capiva che sarebbe diventato un grandissimo allenatore. Insomma, basta vedere quello che ha fatto con l'Atletico dal 2011, che allena 13 anni nella stessa società. Ha vinto 11 o 12 trofei, quindi ha vinto tantissimo da allenatore. E al di là dell'impronta che dà le proprie squadre, ho visto quest'anno giocare all'Atletico. È un piacere vederlo giocare perché gioca un ottimo calcio. Rai Sport. Ciao Simone. Ciao. C'è un riconoscimento unanime del tuo lavoro e della crescita della squadra. Lo step ulteriore, visto che chiaramente l'obiettivo è lo scudetto, è quello di credere fino in fondo che si possa ripetere qualcosa simile all'anno scorso. Perché penso che in Europa tutti vorrebbero evitare l'Inter dal prossimo turno in poi, se dovesse andare avanti. Ma sai, sappiamo quello che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo vissuto delle notte magiche insieme alla nostra società, insieme ai nostri fantastici tifosi e noi vorremmo rifarlo. Però sappiamo che ci sono grandissime squadre che hanno la stessa ispirazione dell'Inter. Già da domani sera affrontiamo un avversario di assoluto valore, una squadra con qualità, quantità, numero di giocatori, perché ho visto l'Atletico nelle ultime quattro partite, penso che abbia cambiato 22-23 giocatori e la squadra non è cambiata. Quindi è un'ottima squadra, allenata benissimo da Diego, e quindi sappiamo che sarà un turno molto molto complicato per noi, però ce la giocheremo alla grande. Domani è il primo incontro sui 180 minuti, i primi 90 minuti in casa nostra, e quindi sappiamo che ci sarà una bellissima atmosfera, sarà bellissimo giocarla e ci vorrà la vera Inter, perché affrontiamo un'ottima squadra. Sport Italia. Ciao Simone. Ciao. Come già accennavi quanto è divertente adesso l'Atletico, negli ultimi due anni è cambiato pelle, sta cambiando pelle. Due interni di tocco, Paolo Barrios e De Paul, che ricordano quasi due interni di tocco che ha l'Inter, è diverso rispetto allo stereotipo, però è anche vero che quando viene in Champions affronta avversari che giocano magari molto in orizzontale come in Liga, quindi recupera un po' delle caratteristiche passate. Che versione ti aspetti domani? Diciamo lotta ma verticalizzazione, quindi una roba a metà? Ma sai, prevedere quello che succederà domani sera non è semplice, anche perché vedendo le ultime partite dell'Atletico hanno cambiato, hanno cambiato perché ho visto l'ultima partita di Liga con la Spalmas, sono stati molto molto aggressivi nella finale giù a Riad, nella semifinale con Real Madrid, non è stato lo stesso atteggiamento, la penultima partita a Siviglia, quella di Coppa del Re col Bilbao, quindi è una squadra che palleggia molto di più rispetto agli anni precedenti, hanno tantissima tecnica, hanno alzato moltissimo il palleggio, hanno giocatori di ottima qualità e quindi insomma prevedere cosa sarà la gara non ho nessuna certezza, chiaramente sappiamo che affrontiamo una grande squadra con un allenatore che ha dato una grandissima mentalità, ma al di là della grandissima mentalità troviamo un atletico di qualità che gioca bene a calcio. Casato dello Sport. Ciao Simone. Ciao. Volevo farti una domanda sul turnover, parola anglosassone abusata in Italia e invece in Inghilterra non lo fanno, ti senti, o comunque lo fanno meno di noi, che non c'è quest'idea che il giocatore in quattro giorni non possa recuperare. Volevo capire se ti senti un po' europeizzato, stai cambiando qualcosa anche tu ultimamente, vedi il match con la Salernitana e se la prospettiva eventuale, passato eventualmente l'atletico, di avere questo vantaggio in campionato con le avversarie che si stanno squagliando ti potrebbe portare invece a ruotare di più in campionato o credi che sia comunque importante tenerli tutti sul pezzo? Ma io parto da quello che è successo, insomma quello che ho fatto io qua all'Inter. Noi l'anno scorso abbiamo fatto gli ultimi tre mesi molto molto bene, cambiando otto o nove giocatori ogni tre giorni, ma avevo recuperato tutti gli effettivi, avevo tutti i giocatori che stavano bene e in quel momento secondo me era la soluzione migliore. Poi dirti cosa succederà qua alla fine non ho nessuna certezza. Io chiaramente venerdì per la Salernitana avevamo avuto sei giorni da Roma, adesso abbiamo avuto le ultime otto partite, a parte due finali in tre giorni in Riad, dove abbiamo potuto preparare nel migliore dei modi le partite, recuperare nel modo giusto, opportuno, quindi non abbiamo avuto grossi problemi. L'augurio è quello, adesso sappiamo che cambierà perché giocheremo ogni 72 ore, quindi sarà tutto più difficile e complicato. Poi per quanto riguarda il campionato 20 giorni fa eravamo a meno uno, quindi adesso siamo più nove della seconda in 20 giorni, quindi sappiamo che è facilissimo in 15, 18, 20 giorni che può cambiare tutto, quindi noi dobbiamo rimanere concentratissimi, non guardando a date lontane, ma alla partita che viene. Adesso chiaramente la squadra è mentalizzata sull'Atletico, poi penseremo a Lecce partita dopo partita, sperando di avere meno infortuni possibili, perché chiaramente giocando una volta a settimana è tutto più semplice per i recuperi, per gli infortuni, però i ragazzi lavorano bene, sono sempre monitorati e di volta in volta come per gli allenamenti, per le partite devo fare scelte che non sono semplici, però i giocatori mi hanno dato sempre grandissima disponibilità. Corriere dello Sport. Ciao Simone. Ciao. Avete affrontato tanti dentro-fuori sul doppio confronto in questi anni all'Inter. Si può paragonare la sfida con l'Atletico a qualcuno del passato? Come livello di avversario, tipologia di avversario e anche come momento in cui ci arriva l'Inter? Chiaramente potrei pensare alla partita dell'anno scorso degli ottavi col Porto, una squadra molto determinata, come lo era il Porto. Chiaramente gli allenatori sono stati tutti e due compagni di squadra, però la prima partita è in casa, quindi sappiamo che sarà un ottavo di grandissima difficoltà, i ragazzi lo sanno, questi tre giorni abbiamo cercato di prepararla nei migliori modi, sappiamo che ci saranno dei momenti dove avremo più il possesso noi, dei momenti dove l'Atletico palleggerà di più e dovremo essere bravi a leggere i momenti della gara, ma su questo i ragazzi insomma sono cresciuti, stanno facendo un ottimo lavoro. La sesta. Hola, qui. L'altro giorno le preguntavamo a Simone che è quello che mi piaceva di più dell'Inter, diceva tutto, dalla personalità all'impronta di gioco che gli aveva dato in quanto allenatore, quindi ha appena detto che gli è piaciuto come ha rinventato il ciolo, l'Atletico negli ultimi 13 anni, quindi cosa ne pensi? Per quello che riguarda Simeone, l'ho detto, è stato un grandissimo compagno di squadra ed è un ottimo allenatore, un ottimo allenatore perché so quanto è difficile rimanere tanti anni in una società, mi è capitato per parecchio tempo anche a me nella Lazio, spero di poter continuare qua, ma noi allenatori siamo sempre giudicati in base ai risultati. Simeone ha avuto grandissimi risultati con l'Atletico, un allenatore vincente, grandissimo carisma, grandissima mentalità le squadre, però non mi fermerei solo lì a dire carisma e mentalità, è una squadra che gioca calcio con dei principi, attacca con tanti uomini, hanno aumentato tantissimo il palleggio, vogliono il dominio del gioco, è una squadra che gioca un ottimo calcio. Tutto sport? Ciao Simone, due cose mi hanno colpito che hai detto, vabbè, hai ricordato i 13 anni di Simeone all'Atletico e adesso hai detto che un allenatore viene giudicato in base ai risultati che da noi è, un'ovvietà in Italia. Ecco, volevo chiederti, ma ti piacerebbe come idea diventare un po' il Simeone dell'Inter oppure è una cosa che in Italia non è realistica perché come sai bene come funziona che da noi si va avanti a rinnovo un anno, due anni, un anno? Ma quello è difficile, è difficile, insomma, l'ho capito negli anni alla Lazio, adesso qui all'Inter, insomma, in 20 giorni cambiano velocemente i giudizi sui calciatori, sugli allenatori, quindi è inutile pensare troppo, bisogna lavorare tanto e lavorare sulle proprie certezze, sui principi, avere la fortuna di avere questo gruppo che ho io, di questi ragazzi che lavorano col sorriso sempre addosso e come ho detto prima abbiamo fatto sei mesi nel migliore dei modi ma i più importanti sono gli ultimi tre che mancano, insomma, l'ho detto anche alla squadra, mancano tre mesi e saranno quelli decisivi per le nostre sorti in Champions e in Campionato. Corriere della Sera Ciao Simone dentro o fuori io penso che sarà una bellissima gara tra due squadre che vogliono dominare la gara, che giocano bene a calcio, che hanno dei principi ben solidi in mente e poi chiaramente queste partite abbiamo visto in questi ultimi anni anche l'anno scorso insomma l'episodio la può cambiare penso a due anni fa ritorno con Liverpool quando in vantaggio di un gol prendiamo un'espulsione in quel momento sembravamo dominare poter recuperare la partita insomma la finale con Manchester City giocata molto bene che probabilmente avrebbe potuto avere un altro epilogo quindi sarà una bellissima partita con due squadre che giocheranno per fare per entrare nei quarti sapendo che sarà un'andata e ritorno prima a San Siro e poi al Vanda Repubblica buonasera mister ciao volevo chiederle nella Lazio 99-2000 in cui avete giocato insieme con Simone gli sto contando a mano ma mi sembra che in 12 abbiate fatto gli allenatori che è tantissimo cioè più che nell'Inter di Mourinho quello che volevo chiederle era quanto ha influito Sven-Goran Eriksson nel farvi amare questo mestiere perché siete giocatori con ruoli diversi persone molto diverse eppure al dunque in tanti avete scelto questa via e niente volevo chiederle questo cioè se vi ha aiutato ad innamorarvi del mestiere di allenatore ma tantissimo tantissimo Sven penso che abbia influito almeno personalmente sicuramente per la gestione per per come per come si relazionava con noi giocatori era veramente un ottimo un ottimo allenatore un'ottima persona con delle idee tattiche innovative che gli hanno permesso di vincere non solo l'Italia con la Lazio ma anche all'estero e chiaramente in quella squadra c'erano tantissimi allenatori che hanno fatto bene che stanno facendo un'ottima carriera quindi sicuramente Sven ha influito molto su di noi la stampa ciao Simone questo vantaggio che cresce in campionato sull'inseguitrice aiuta anche ad aumentare la consapevolezza in Champions League per cercare di ripetere quanto fatto l'anno scorso grazie no per quanto riguarda il campionato non aiuta aiuta il percorso noi guardiamo solo noi stessi e dobbiamo continuare sapendo che mancano 14 partite 42 punti quindi un'enormità quindi abbiamo fatto un ottimo cammino per 25 partite ma abbiamo visto cos'è successo dal 20 dal 20 di gennaio adesso siamo partiti per i per iad il primo giorno a riad prima delle semifinali eravamo meno uno in campionato adesso in 20 giorni abbiamo preso un discreto vantaggio ma penso che è tutto va tutto molto veloce quindi bisognerà l'ho detto anche i ragazzi l'ho detto in conferenza dopo la Salernitana dovremo essere concentrati anche quando dormiamo perché le insidie sono sempre dietro l'angolo e in questo in questo caso è l'atletico l'atletico che insomma l'abbiamo parlato non è una squadra che devo presentare io sappiamo cosa è cos'è l'atletico che che tipo di squadra è senz'altro sarà sarà un un bel avversario che cercheremo di affrontare davvero a Inter Calciomercato ciao prima si faceva il confronto il parallelo con Simeone che è lì da 13 anni e lei ha detto mi piacerebbe però insomma parlano i risultati e siamo giudicati in base ai risultati è anche vero però che all'Inter gli allenatori arrivano e vanno via per esempio due anni dopo tre anni dopo che sembrano i nonni rispetto a quelli che sono arrivati lei sembra insomma ancora con la pelle liscia liscia il fisico qual è il suo segreto e perché non può vedersi il Simeone dell'Inter no diciamo che che fa piacere fa piacere insomma a me fa piacere soprattutto portare questo clima che si respira questa unione tra giocatori società staff e tifosi è quello che penso che ogni allenatore possa possa sognare insomma l'atmosfera che si respira che si respira a San Siro che si respirava quando ero all'Olimpico di Roma quindi è quello che mi gratifica di più poi chiaramente sappiamo che siamo siamo giudicati giornalmente noi quindi ci sono dei momenti dove sei il più bravo del mondo e dei momenti dove sei l'ultimo però bisogna cercare sempre di lavorare nel migliore dei modi e cercare di trasmettere a questi ragazzi il calcio che ogni allenatore ha in testa te Lombardia sono qua salve mister buongiorno volevo chiedere intanto se mi pare di capire l'unico dubbio di formazione sia a destra tra Dunferris e Darmian e se in questa ottica lei farà delle valutazioni visto anche il discorso che faceva prima questo piccolo vantaggio che c'è in campionato magari in un'ottica di turnover adesso può pensare di fare dei ragionamenti in questo senso grazie no perché non si ragiona su due partite si ragiona sull'Atletico Madrid per quanto riguarda domani oggi i ragazzi quelli che sono scesi in campo che avete visto nella rifinitura stanno bene tutti quanti tutti eventi vogliono giocare compreso Stankovic e chiaramente domani dovrò dovrò fare delle scelte come ho fatto prima della Salernità abbiamo qualche assenza importante acerbi quadrado e sensi però gli altri gli altri eventi stanno bene più i tre portieri e domani mattina faremo l'allenamento e poi sceglierò la formazione è tutto mercato web buonasera mister il gioco e i numeri della sua inter sono sotto gli occhi di tutti le volevo chiedere se può ancora migliorare se ancora margine di miglioramento e nel caso come in cosa grazie ma c'è sempre c'è sempre margine ogni partita che chiaramente l'analizziamo insieme insieme ragazzi prendiamo spunto poi chiaramente quando vinci l'analizzi ancora con più piacere però al di là della vittoria e della sconfitta bisogna sempre fare un'analisi attenta giusta con la Salernità l'abbiamo analizzata abbiamo analizzato la partita prima di Roma e abbiamo tratto spunti importanti anche da queste due partite l'ultime 3-4 domande Radio Bio Bio ciao Simone hola ciao è chiaro che Marcus e Lautaro stanno facendo delle cose fantastiche sono i titolari quindi in cosa Alexis Sanchez dovrebbe ancora lavorare su cosa dovrebbe lavorare per migliorarsi e per poter avere un posto da titolare l'ho detto venerdì alla fine della partita con la Salernità Turam e Lautaro in questo momento stanno giocando di più ma sono contento di di Turam e Lautaro come Arnautovic e Sanchez Arnautovic e Sanchez secondo me stanno facendo un ottimo lavoro che vuol dire allenarsi nel migliore dei modi essere sempre propositivi col gruppo e quando sono stati chiamati in causa ci hanno dato una grande mano insomma penso ad Arnautovic quando non abbiamo avuto Lautaro ha fatto Lecce e Genova due partite da titolare nel migliore dei modi penso a Sanchez quando è entrato a Corsa Lisburgo che qui a San Siro ci ha fatto un gol fondamentale l'ingresso di domenica di domenica Roma che ha avviato l'azione per Arnautovic dove abbiamo chiuso la partita col gol di Bastoni quindi devono continuare così chiaramente adesso giocando ogni tre giorni avranno ancora più spazio ma per me sono stati preziosissimi da qua probabilmente non sono risultati agli occhi della gente come Turam e Lautaro che hanno giocato di più ma per me Arnautovic e Sanchez hanno fatto per adesso sei mesi ottimi FEC INTER NEWS salve mister ciao allora lei ha detto prima giustamente che è un atletico diverso rispetto a quello degli altri anni ed è comunque stiamo parlando di un allenatore che è appunto lì da 13 stagioni il fatto che persino un allenatore che ha avuto comunque più o meno la stessa filosofia per 12 anni adesso comunque si porti verso una filosofia di gioco diversa è il segnale comunque che per europeizzarsi bisogna andare comunque verso quell'idea di calcio lì lo chiedo a lei perché in realtà lei in questi due anni e mezzo ma anche prima con la Lazio più o meno la filosofia di possesso è tutto invece l'ha sempre tenuta ma ogni allenatore insomma fa il calcio a modo suo io per quello che ho visto dell'atletico quest'anno io il ciolo è un allenatore che ho sempre guardato con grandissima partecipazione perché è un ottimo allenatore è una persona che stimo molto io le partite che ho visto quest'anno dell'atletico ho visto l'atletico l'ultima partita con la Spalmas a fare un pressing ultra offensiva l'ho visto una squadra che palleggia molto che usa molto bene i braccetti a entrare nel gioco quindi ho visto una squadra che gioca molto bene a calcio e quindi poi chiaramente dirti che partita verrà fuori domani sera in questo momento non te lo so dire perché è un ottavo di finale sarà una partita molto molto sentita da tutte e due i club ma all'atletico e a Simeone per quello visto quest'anno poi sono stati sfortunati nella finale di Supercoppa giù a Riad però stanno facendo un ottimo calcio e stanno ottenendo risultati sapendo che giocano sempre contro avversari che sono Real Madrid e Barcellona che sono difficili da affrontare Aria ciao Simone ciao intanto in bocca al lupo per domani e ti volevo chiedere questo l'anno scorso dopo aver passato il girone di ferro diciamo così sembravate un po' gli outsider no? dagli ottavi in poi e siete arrivati in finale quest'anno invece qualcuno addirittura vi dà per favoriti per una possibile vittoria finale quindi viene a mancare l'effetto sorpresa questa cosa ti spaventa o invece è la logica conseguenza di quello che state facendo vedere da quando è iniziata la stagione ma probabilmente può essere la logica conseguenza di quello che sta esprimendo la squadra la continuità che ha avuto però l'ho detto prima insomma noi dobbiamo cercare di rimanere molto molto concentrati ed allenarci come abbiamo fatto in questi primi sei mesi poi quello che sarà lo vedremo insomma però la squadra ha ottime certezze ha dei principi di gioco lavorano bene e da qui alla fine saranno tante partite tante sfide affrontate sempre nel migliore dei modi sapendo che domani sera chiaramente sarà una partita molto molto difficile ma ci giocheremo le nostre carte l'ultima tercera al tempo si Simone te l'ho in castellano Carlo Bianchi parla los medios spagnolos come si prepara un partito internazionale come si prepara una partita internazionale in Girona in fase del Girona e poi una partita degli ottavi quando si conosce già l'adversario da due mesi beh chiaramente è più di due mesi che sapevamo che giocavamo con l'atletico quindi c'è stato chiaramente ancora più tempo per vederlo per cercare di capire che tipo di squadra perché sappiamo della forza dell'atletico e quindi rispetto alle partite alle partite del girone questa volta abbiamo avuto due mesi e mezzo abbiamo visto che tipo di squadra andremo ad affrontare che è una squadra intensa fisica che oltre che la quantità ha grandissima qualità perché insomma ha giocatori ottimi in tutti i reparti e soprattutto hanno una rosa molto molto lunga quindi mi aspetto anche insomma tutti quanti i giocatori insomma che ha doppi ruoli e Diego come del resto io domani a parte qualche qualche defezione può scegliere liberamente l'undici migliore grazie a tutti buona serata grazie